Lo so, nell'ultimo video vi avevo lasciato intendere che oggi sarebbe uscita la carriera Però poi mi sono detto È 21 agosto Oggi inizia il campionato Come fai a non pronosticare la classifica? Che tutti gli anni ti insultano perché non azzecchi neanche una posizione Mi manca essere insultato ragazzi E quindi è come qui Con questo video Anche quest'anno Come finisce la Serie A? 21-22? Ve lo dico... Lo dico io Vabbè, uno gli prova Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale E soprattutto in questo format annuale Anzi, triannuale Ma aspetta, triannuale significa che esce tre volte all'anno? O che esce ogni tre anni? Vabbè, annuale per tre Perché alla fine sono tre i contenuti Come finisce la Serie A Che è il video di inizio anno Sto indovinando la classifica Video fine girone d'andata E poi ho indovinato No Più che altro, lo sapete Ve lo dico Prima di ogni pronostico Non sono Nostradamus Non sono nemmeno il Penguin Però mi diverto a analizzare con voi E fare determinati ragionamenti inerenti alle squadre di Serie A Voi ovviamente a fine video Commentate qui sotto Scrivendomi innanzitutto Se siete d'accordo con me Poi la vostra classifica O semplicemente Chi vince secondo voi il campionato Che poi è quello che ci interessa Chi vince, chi va giù Le posizioni intermedie Dai Pallacciano il tempo che trovano Ma noi pronosticheremo anche quelle Quindi prima di partire Oltre che ricordarvi che Visto che oggi la carriera non è uscita Uscirà lunedì Alle ore 13 Qui sul mio canale Vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale Di attivare la campionina Per essere aggiornati su tutti i contenuti E di seguirmi su Instagram Dove siete più a contatto con me Sapete in anteprima quando escono i video E soprattutto siete più a contatto con Tuzzi Agua Pelata Corcerchietto Che è carichissima mi ha detto Per la nuova stagione Come sempre iniziamo a pronosticare la classifica Dal basso verso l'alto Quindi partiamo da chi secondo me Tornerà in serie B Mi sono fatto tanti calcoli Su questo campionato Perché non so se siete d'accordo con me Ma si preannuncia Uno dei più interessanti degli ultimi anni Almeno uno dei più interessanti Per tanti motivi I tanti cammin panchina Il mercato un po' particolare Che secondo me ha livellato molto la situazione E poi soprattutto Cosa che non dobbiamo sottovalutare Il calendario Il calendario alla Premier League sostanzialmente Quindi non come eravamo abituati in precedenza Quindi la prima giornata del girone andata Sarà la prima del girone di ritorno Ma anzi La prima del girone di andata Potrebbe essere la ventiquattresima poi Quindi la quinta del girone di ritorno E tutte queste cose qua Di conseguenza Gli incastri I big match Secondo me sposteranno tantissimo Ma bando alle ciance Secondo me andranno giù Salernitana Venezia E Spezia Vi spiego Perché ho fatto questo ragionamento Salernitana e Venezia Per come la vedo io Naturalmente Potrei sbagliare La mia è semplicemente un'analisi Non hanno la rosa E l'esperienza Adatte al campionato di Serie A Sono appena arrivate Tanta roba Io mi auguro che rimangano Perché poi quando una squadra Che non ha mai giocato O che non gioca da tempo La Serie A Come per esempio Lo Spezia l'anno scorso Riesce a rimanere Nella massima serie Tanto di cappello Ed è bello anche Che ci sia un ricambio Secondo me Non c'è stato Questo rinforzo Estivo Per quanto riguarda Queste due squadre Mentre per quanto riguarda Lo Spezia Ha perso l'italiano E non ha perso poco Perché Ecco L'anno scorso Io Non avendo seguito troppo Devo ammetterlo I precedenti anni Dello Spezia Con Italiano Non mi aspettavo Che potesse avere Un impatto così devastante Sul campionato di Serie A Cosa che invece ha avuto Perché Al di là poi Della salvezza Praticamente tranquillissima Poteva arrivare Qualcosina anche di più Della salvezza tranquilla A inizio stagione Per come era partito Lo Spezia E poi I tanti big match vinti La consapevolezza Il bel gioco Insomma Una squadra Che Ha permesso A Italiano Di sedere Poi sulla panchina Della Fiorentina E infatti Ne parleremo Della Fiorentina Perché a me piace molto Solo che è arrivato Iago Motta In casa Spezia E a me Lui non ha mai convinto O meglio Quando ha allenato il Genoa Poi potrà stupirci Ma come griglia di partenza E oggi possiamo parlare E poi Dopo ogni settimana I calcoli cambieranno Vi dico questo Chi secondo me Invece si salverà È l'Empoli Di Andrea Zoli Che torna a sedere Sulla panchina Degli Toscani Dopo la sfortunatissima Retrocessione Della 2019 Ricorderete Quella sconfitta A San Siro Contro l'Inter Di Spalletti Pur dominando Lui che Se non ricordo male Era stato esonerato A stagione in corso Poi richiamato E non riuscì a salvare Comunque l'Empoli Quest'anno La cosa è diversa Perché secondo me L'Empoli ha Una costruzione Ha delle idee Tanti giovani Personalmente Vi ho raccontato In primavera Di Baldanzi E Aslani Ma non sono gli unici Perché potrei Leccarvi tutta la rosa Che poi è diventata Campione d'Italia Nel video Che avete anche Gustato qualche mese fa Da qui in poi Vi metto una carrellata Di squadre Le classiche Che hanno poco Da chiedere al campionato E quindi non vi so dire La posizione esatta All'interno della quale Concluderanno Però più o meno La stagione sarà questa Di Udinese Di Bologna E di Genoa Sostanzialmente Poi metto il Sassuolo Che ha perso De Zerbi E sicuramente È un downgrade Importante Perché non ha perso Soltanto De Zerbi Ma ha perso anche Locatelli In mezzo al campo E sono perdite fondamentali Perché da una parte C'era il direttore d'orchestra Dall'altra Lo scheletro Della squadra Quindi Un downgrade Me lo aspetto Diciamo che Comunque sia Potrà esserci Una stagione positiva Del Sassuolo Non mi aspetto Un qualcosa di catastrofico E dunque La retrocessione Ma non mi aspetto Nemmeno Una Europa League Barra Conference League Sfiorata Come l'anno scorso Discorso simile Per il Verona Che secondo me Chiederà tra l'undicesimo E il dodicesimo posto Perché ha perso Juric Juric dove è andato? Al Torino E infatti il Toro Che l'anno scorso Ha secondo me Anche meritato Avrebbe meritato Una retrocessione Che non è arrivata Non me ne vogliano Tiposite il Torino Analizzo quel che vedo In campo Ma la mancanza Di idee Di programmazione Ha fatto la differenza Con Juric E una rosa Che non è proprio Da Serie B Secondo me Il Torino potrà essere Una squadra Veramente ostica Non da Europa Ma ostica Spostiamoci però Nella parte sinistra Della classifica E quindi siamo A metà Del nostro giochino Ma adesso Iniziamo a A entrare Nelle posizioni Che contano un po' di più Non abbiamo ancora citato Squadre che hanno sofferto Negli ultimi anni E infatti sono qui Vi parlo del Cagliari Che è reduce Da due stagioni Indecifrabili Nel senso La prima delle due 19-20 Molto bene Nella prima parte Con Maran Poi Catastrofe Nella seconda Sempre con Maran Arriva Zenga Sistema un po' le cose Salvezza L'anno scorso Catastrofe con Di Francesco Che riparte dal Verona E infatti Non ne ho parlato Ma secondo me Di Francesco È il vero punto di domanda In casa Hellas Perché Se da una parte Le sue ultime stagioni Sono state penose Vi parlo della seconda La Roma Della Samp E del Cagliari L'anno scorso Precedentemente I risultati c'erano Quando era Sassuolo All'inizio alla Roma Quindi devo ancora capirlo Onestamente Diciamo che È un dato Che abbia avuto difficoltà Negli ultimi anni Non sono così sicuro Che sia Un brutto allenatore Quindi voglio capire Onestamente Lo vedremo in questa stagione D'altro canto Il Cagliari Appunto Che tanto male ha fatto Di Francesco Ha trovato semplici Nella seconda parte Di stagione E ha trovato anche Una grandissima salvezza Con giovani ritrovati Qualcuno che sta esplodendo Qualche giocatore esperto Alana in Golan Che ha lasciato Per andare in Belgio Però secondo me In questa stagione Con l'esperienza Semplici Maturata nella passata Qualcosina in più Vedremo In casa Cagliari E anche in casa Samp Perché la Samp Riparte da un'ottima base Lasciata da Claudio Ronieri Da una rosa interessante Non da Europa Ma Neanche da salvezza E quindi D'Aversa Che aveva fatto tanto bene Al Parma Nella sua prima esperienza Poi Lo ricorderete Ha lasciato Per fare un salto di qualità Che non c'è mai stato Il Parma ha preso Liberani Per poi richiamare D'Aversa Visto che Liberani Non riusciva A dare quell'imprinting Che avevamo visto invece Al Lecce Nella stagione precedente E quindi Non tanto bene Il Parma Che è in Serie B E quindi un motivo C'è effettivamente Anche lì Di programmazione Di gestione Che non ha funzionato proprio Però D'Aversa Ci ha dimostrato Che le idee ci sono Che il gioco c'è sempre stato E quindi io me lo aspetto Anche alla Samp Andiamo avanti Perché L'ultima squadra Fuori Tra virgolette da tutto Quindi ottavo posto in classifica Ma comunque Stagione positiva Se guardiamo le ultime È la Fiorentina E ve ne parlavo prima A me italiano piace tanto Ma piace anche tantissimo La Fiorentina Vi dico la verità A me piaceva anche Nelle scorse stagioni Non mi spiegavo Come mai non arrivasse I risultati Forse giovani un po' acerbi E non mi riferisco A quello della Lazio Già ho capito Ma mi riferisco a Blauvic Per esempio Che parte In questa stagione Non come partiva L'anno scorso Perché poi Il girone di ritorno Di Blauvic Ce lo ricordiamo Improvvisamente Sembra il nuovo Holland Ma le ricordo I discorsi Che si facevano Inizio stagione Eh ma stiamo Con questo davanti Non segna Si mangia i gol Non tiene la posizione Non fa il reparto È troppo acerbo Semplicemente Quindi Che cosa vi voglio dire Che Con un anno Di esperienza in più Le cose cambiano La Fiorentina Aveva tanti giovani Qualche giocatore esperto Ora una guida Importante Che magari in passato Non aveva Ma adesso Signori Entriamo in zona Europa Tra Conference Europa League Champions League E soprattutto Sfudetto Sono pronto Pioveranno insulti Ma non lo scappo Perché Adesso Cioè le prime sette Coincidono anche Con le sette squadre Con più tifosi in Italia Quindi Se la vostra squadra È al primo posto Un altro tifoso Mi insulta Se la vostra squadra È al settimo posto Mi insultate voi E quindi Io mi metto l'anima in pace E sono pronto A ricevere gli insulti Settimo posto La Lazio La Lazio perché I motivi sono sempre due Quando si arriva In questo punto Della classifica Il primo motivo È sempre Se sei settima È perché Le altre sono più forti Di te Cioè non sei tu Che sei scarso Ma le altre Secondo me Sono più pronte E magari Hanno più certezze Rispetto a te L'altro motivo È che la Lazio Sul mercato Non si è mossa Troppo bene Nel senso Bene per Sarri Che è uno Che fa rendere tantissimo Gli esterni d'attacco È tornato Felipe Anderson Che secondo me Farà benissimo È arrivato Pedro Dalla Roma Che era fuori dal progetto In casa Mourinho Giusto Ma che è dentro Il progetto Lazio Giusto anche questo Secondo me farà benissimo Immobile Farà bene Gli attaccanti con Sarri Torno a ripetere Sono sempre molto esaltati Però poi manca qualcosa Io ho questa sensazione In difesa La Lazio aveva chiari problemi L'anno scorso E secondo me Non li ha risolti Quindi Alla lunga Un po' per questo Un po' perché Sarri Deve inserirsi Il progetto Sarri Dura tre anni È giusto che sia così Mi aspetto tanto bene Già dalla prossima stagione Però potrebbe trovare Qualche difficoltà in questa Sesto posto Almeno alla griglia Di partenza Per la Roma di Mourinho E anche qui Si parla di mercato È vero che è partito Giaco in modo inatteso E hai dovuto sostituirlo Ma secondo me Quello non è neanche un problema Perché la Roma Si è mossa bene prima Prendendo Majoral L'anno scorso Per prevenire Piano piano L'ha integrato Ha preso Shomuro Dopo che si è inserito benissimo Abram tecnicamente Era quello che doveva Sostituire Giaco Ne hai perso uno Per prenderne tre Tecnicamente Quindi per me Non hai perso lì Però manca un centrocampista Manca chiaramente Un centrocampista Non può essere un caso Che la Roma cerchi Tutta l'estate Shaka Poi non lo prende E non prende però nessuno Cioè se tu hai cercato Shaka Io penso che servissero Quelle caratteristiche lì Quindi la Roma Ha l'obbligo Per raggiungere L'obbiettivo Champions League Di andare ad investire In quella posizione di campo La Roma secondo me Si è rinforzata E la lunga farà bene Se si parla sempre Di griglia di partenza Non posso metterla sopra Ad altre squadre Quindi sesto posto Mentre al quinto Ho messo il Milan Anche l'anno scorso L'ho messo il Milan Al quinto posto E l'anno scorso Francamente Era anche più motivato Metterlo al quinto posto Nessuno Si sarebbe aspettato Quella stagione incredibile Almeno in parte Perché poi Qualche mese De ferie Se l'è preso il Milan Durante la stagione Ma comunque È riuscito ad arrivare Al secondo posto Quest'anno secondo me Pagherà la Champions League Pagherà la Champions League E un pochino Il fatto che Pioli Ciclicamente Un crollo In ogni squadra Che ha allenato L'ho avuto Mi auguro di no Perché mi piacerebbe Da amante del calcio Rivedere un Milan Ormai lì Su quel livello Non è semplice però Soprattutto se analizziamo Le prime Quattro in classifica Che sono squadre fortissime Una La quarta E l'Inter Perché dal primo Al quarto posto Ve lo devo dire Magari mi sbaglio Ma l'Inter ha venduto troppo Ha cambiato allenatore Non è mai consigliabile Quando hai appena vinto E il rischio Può essere quello Perché torno a ripetere Ci sono squadre Che corrono Le tue spalle Lo stesso Zanetti Ha detto Chiaramente Sarà una stagione Difficile Non posso negarlo Ai tifosi Poi Può essere Può essere che metta Le mani avanti E quindi Rivedremo un Inter Che se la giocherà Per lo scudetto Dal mio punto di vista Se la giocherà Per entrare in Champions Perché Chi sono queste rivali Una è il Napoli Che secondo me È un passettino in più Perché Ha cambiato Zero Dal punto di vista Della Rosa Che già l'anno scorso Era molto competitiva Però hanno avuto Degli infortuni In determinati momenti Che li hanno penalizzati Penso ad Osimène Che ha giocato 10 partite a inizio stagione 10 partite a fine stagione Si è perso quelle centrali Si è vista la differenza Perché quando ha giocato lui È stato devastante A Napoli poi Cos'è mancata Una guida Da un punto di vista Tecnico Io Ho sempre stimato Gattuso Però qualcosa Gli è mancato Ed è evidente Non ha l'esperienza Che ha Spalletti Spalletti fa rendere O meglio Secondo me Farà rendere Questo Napoli Molto meglio Di quanto abbia fatto Gattuso E quindi Per me Se non cambia la cosa E prendi un mister Più adatto Puoi farlo Questo upgrade E poi non fatevi Influenzare dalle voci Restando sul Napoli Eh ma Insigne Forse non rinnova Eh ma Coulibaly Lo cediamo Eh abbiamo preso Juan Jesus I fatti quali sono? Che Insigne è lì Che Coulibaly è lì Chi hanno venduto? Vado a memoria? Nessuno mi pare Quindi Cauti Cauti sempre Con le voci estive Secondo posto Qui è bella Qui è bella Perché Adesso Secondo posto Secondo e primo posto Secco Atalanta e Juventus Questo è il mio È il mio podio Napoli Atalanta e Juventus L'Atalanta è la certezza In realtà Da un punto di vista Di Zero cambi Perché è l'unica Delle prime cinque O sei Anzi Anzi sette Probabilmente Che Che non ha cambiato Vabbè a parte il Milan Non ha cambiato Allenatore Ha perso Romero Se non sbaglio In difesa Si è fatto male Zapata Qualche problemino Può esserci Però l'Atalanta e Diesel Con Gasperini Lo sappiamo Partirà con calma Perderà punti A inizio campionato Facendo un buon giro Nei Champions E poi La lunga sarà devastante Questo è quello che penso io Potremmo anche fare il discorso Che abbiamo fatto Negli ultimi sette anni Ma ti pare Che ripetono La stessa stagione Sì Hanno sempre migliorato Quello che hanno fatto La stagione precedente E quindi io Quest'anno Ho motivo di dirvi Che secondo me Sono da secondo posto Se non da Scudetto Si fossero rinforzati Un po' di più Avrei detto da Scudetto Potrei dirlo lo stesso Nel senso che Possono giocarsela Ma come se la possono giocare Anche le altre squadre Che ho leccato finora Il Napoli L'Inter La stessa Roma Perché magari Fa quello che ha fatto Il Milan l'anno scorso Vai a capire La Lazio Perché no Insomma bisogna Bisogna vederlo Però la Juve è allegri La Juve non era scarsa L'anno scorso Aveva semplicemente Dei giovani Dei giovani che A partire poi dalla guida Che era Pirlo Inesperta E ci poteva stare La scelta era quella lì Quindi tu facevi i calcoli Con quella guida lì La guida di quest'anno È una guida Esperta È un veterano È uno che sa mettere I giocatori al proprio posto Li sa far rendere E soprattutto Sa leggere i momenti Delle partite E della stagione E quei giovani Che vi dicevo In casa Juve Hanno un anno D'esperienza in più Oltre Chiaramente Ad un mercato Che ha portato dentro Locatelli Per fare un nome Che non è Sicuramente Un giocatore scarso Però vedremo Questa è la mia classifica Anzi ve la faccio vedere qui Ma allontano un po' io Anzi ve la lascio di qua Queste le mie posizioni Chiave Quindi chi va giù Chi va in Europa E chi vince lo scudetto Ovviamente potete essere In accordo O in disaccordo Come è questo Il bello Di questi video Sempre educatamente Ora scherzi a parte Raccontatemi qui sotto Quello che pensate voi Fate un vostro pronostico E come sempre Noi ci aggiorniamo A fine Girone mandata E a fine stagione Per capire se ci abbiamo preso Almeno nei calcoli Un bacione Never give up E alla prossima Ciao ragazzi Buon campionato a tutti